buonasera buonasera ben ritrovati dentro la nostra scarpiera oggi siamo nella scarpiera pronti ad illustrarvi delle scarpe da non perdere per la primavera di tutti i tipi dall'elegante al meno elegante però quindi tutti i modelli che abbiamo visto nelle passerelle e che vogliamo declinare anche nelle varie modalità da quella più sforzosa a quella più economica partendo dal volere essere eleganti ma senza tacco perché chi l'ha detto che bisogna per forza avere il tacco per essere eleganti assolutamente nessuno e poi soprattutto viviamo in un'epoca dove è anche stato un po sdoganato l'essere comodo esatto esatto bisogna per forza per abbellire soffrire esatto e quindi partiamo da una scarpa bassa ma elegante che sono le famose oxford quelle con i laccetti tanto per capirci quelle da uomo che io direi le scarpe da uomo e però devo dire che sulla donna spopoleranno sì stanno già in realtà spopolando dalle passerelle in poi quindi quest'anno diciamo che questa è una delle mode più seguite anche dalle professioniste perché piace che essendo un po' elegantina sta bene sotto i vestiti per il lavoro è vero è vero sta bene con un tagliore a pantaloni ma ti dirò che io l'ho visto anche con le gonne anche con le gonne ecco questa rosa che sono oxford hamilton magari con le gonne no però questo abbiamo scelto un colore primaverile proprio per sottolineare che vanno bene in primavera guarda ce le verdrei con la gonna solo con una calza tono su tono e una gonna particolare però non dà lavoro non dà lavoro assolutamente poi c'è un altro tipo di oxford quelle marx and spencer queste invece sono più classiche queste sono un pochino più classiche queste queste con la gonna le ho viste io a un avvocato sì infatti sono proprio da avvocatessa vero sono proprio da avvocatessa allora questo è un bel modello che mi piace anche da se la compriamo adesso da mettere poi in autunno questa va sempre bene questa diciamo che è un sempre verde e invece la terza la derby che è quella senza lacci perché la oxford in realtà è proprio quella senza lacci la derby è quella che sta un po' più aperta o addirittura senza lacci come questa questa è bellissima questa è molto bella è di fratelli rossetti questa ricorda un po' l'anfibio per qualche vero perché bella grossa come piace a me infatti senza lacci molto elegante anche questa con la gonna va benissimo e anche con un tagliore questa come hai detto tu questa va bene anche da autunno poi sì queste a me piacciono perché poi le sfruttiamo un po' in primavera e poi le sfrutteremo anche molto quando iniziano i primi freddi ma ci ripenseremo e non abbiamo voglia sì adesso non vogliamo allora queste erano quelle coi lacci poi un altro modello basso elegante sono le famose penne che sono quelle senza i mocassini sì come quelli church per intenderci eccola qua infatti la prima da cui partiamo sono le church questo è un bianco che è molto bello in primavera soprattutto questa primavera dove abbiamo visto vanno di moda molto anche le camicie bianche forse è una sequenza di foto non mi ricordo se c'è una foto sola o c'è una sequenza eccole qua c'era una sequenza eccola eh sì dicevamo le camicie bianche vanno di moda con queste è l'abbinamento perfetto per uno stile elegante primaverile anche sobrio sì è intramontabile perché le church sono intramontabili un altro tipo di penne ecco queste piacciono più a me sono la marca pillador ecco visto che il metallizzato il lucido il cangiante sono i colori che vanno di moda cosa non è meglio di questo look che appunto mi ci apre anche il metterlo insieme al jeans sì certo quindi non solo elegante ma anche coicissimo a queste d'oro sì un sabato una domenica fare una passeggiata con gli amici e queste sono comode sono anche molto carine ultimo tipo di penne queste delle valterine rosa meravigliose belle queste è un rosa confetto in questo caso perché sarà una primavera dove ovviamente come sempre perché i pastello non sono mai stati del tutto aboliti ci sono anche tanti pastello in giro quindi come questo come uno di questi va bene però parlando di mocassini vengono in mente anche gli altri mocassini abbiamo visto quelle coi lacci quelle senza lacci e poi ci sono quelle col morsetto allora il morsetto inizia per forza con Gucci e sì e sì perché è lui che l'ha lanciato è il brand appunto come vedete nella carta va beh questo sarebbe non plus full va beh però è anche un po' per dire guardatemi sì è per sognare praticamente e invece ci sono tanti abbinamenti un po' più consueti un po' anche più per tutti i portafogli che possiamo vedere no? esatto con la platform beh questo non è proprio per tutti i portafogli questa è Versace però è meravigliosa questa è meravigliosa questa è stata sulle passerelle è un po' più grintosa e qui ci apre anche visto che abbiamo citato i colori pastello e i colori fluo brava esatto che ci sono in tante versioni ci sono anche per questi io queste me le immagino ok Versace chi può ok le prende di Versace ma anche tutti i brand low cost questa costa meno Cesare Gasparri e questa qua è molto bella sono belli usarli anche in questi colori fluorescenti comunque vivacissimi che puoi usare una stagione e poi magari archiviare e comunque queste sono praticamente col platform no si dice sì col platform che sarebbe con la para io direi no? noi che siamo più anziani diciamo con la para voi più giovani dite col platform che però danno un tocco di grinta come dici tu sono forse meno eleganti però anche più portabili sì da quando Angelina Mango è andata a Sanremo con la zeppa un po' tutti si sono adattati è vero è vero ha fatto un po' da traino allora la regia già mi mette quelle dopo che sono quelle coi gommini ultimo tipo di scarpa bassa un po' maschile sono quelle coi gommini è un evergreen questo queste sono tots è un evergreen che però l'anno scorso non vi avevamo dato quindi è ritornato un po' andando di pari passo vi dicevamo la puntata scorsa vanno di moda le polo vanno è ritornata la lacoste quindi sì brava e questo è un abbinamento jeans gommino tots e polo magari abbinata e è ritornato questo stile casual chic esatto che da dire che il gommino non si usa d'inverno perché ha una suola molto bassa con questi gommini quindi è chiaro che se piove nevica non vanno bene vanno bene nelle temperature più basse perché vedete la suola è molto sottile sì sì è proprio da mettere adesso perché poi quando arriva l'estate fa anche caldo vediamo l'altro tipo che sono disabelle bernard altro colore pastello come dicevi tu qui è la copia io li vedo in giro per la città visto che abbiamo ironizzato una puntata abbiamo fatto vedere gli stili quali sono radical chic qui mi vedo proprio quelli gli chicchettini un po' a Milano che vanno con questi il jeans arrotolato e la camicetta un po' arrotolata è proprio è vero è vero è vero sì sì è un po' radical chic che magari abita pure in centro anche quello va bene allora questi erano i quattro tipi di scarpe basse pseudo maschile eleganti che nelle declinazioni primaverili primaverili ma parlando di scarpe basse della primavera non si può non parlare eh delle intrabbontabili ballerine esatto io le odio però dai queste che le prime partiamo soft sì sono di Anna Field queste economicamente molto accessibili sono anche con una punta non proprio ballerina ballerina ma un po' allungata quindi comunque secondo me queste ci stanno metti un pantalone largo magari non così skinny e corto secondo me sono veramente orribili sono sfollagente secondo me e tu non puoi trovare in me una nemica perché io sono alleata anche a me non piace anche tu se la pensi come me su questo sì poi io sono sono anche un po' per il piede che deve stare in salute quindi sono troppo bassi e infatti a me piacciono i mocassini col platform perché stai un po' più su queste qua sono terribili sono proprio ti fanno venire il piede piatto però effettivamente vanno molto di moda devo dire che su tante donne stanno bene in particolare che ha la caviglia sottile sì devi avere la gamba magra perché non ti slancia per niente la ballerina sono comode quando tu devi uscire di casa e sei appena risalita e hai fatto la spesa ti chiamai postino devi uscire sì esatto queste circostanze sì 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 solo per questi casi vediamo un altro tipo quelle colorate delle ballerette che è un famoso marchio che è appunto specializzato in ballerine ce ne sono due tipi diversi sì queste sono anche sagge perché hanno quel mezzo tacco che puoi utilizzare un terzo ah no le terze quelle viola sì quelle color fucsia quella è proprio una scala anche di tacchi per tutti i gusti però diciamo che nel momento in cui fai anche un aperitivino sei già sì e poi c'è da dire che quelle in mezzo sono a punta e non hanno il fiocchettino mentre quelle sono due tipi diversi sono dei modelli diversi allora devo dire che quest'anno più che mai ritorna proprio questo stile perché come vedete non ci allontaniamo molto dal genere sì è vero è vero quindi prima o poi ci si abituerà anche perché non piace o ci si riabituerà sì altro marchio famoso per le ballerine sono le valterine e queste sono quelle classiche sì colori primaverili colori primaverili e anche io oserei dire anche in questo caso staranno bene in autunno quindi questo ve lo anticipiamo che chi sceglierà queste declinazioni del rosso, del giallo, del verde comunque le ritroverà poi nella stagione autunnale magari le abbiniamo sì a qualche traccia nel nostro look perché no sì sì deve esserci un richiamo ovviamente un piccolo richiamo sì sì non mettetevi un vestito rosa e le ballerine rosse senza avere una continuità serve sempre una continuità questo ve l'abbiamo insegnato ultima ballerina Tamaris queste sono classiche nere sì diciamo che abbiamo aperto con delle classiche nere con la punta senza fiocchetto chiudiamo con delle classiche nere in questo caso proprio tipiche ballerine bassissime quasi raso terra con il fiocchetto quasi da ballerina sì queste sembrano quasi da danza sembrano quasi da danza va bene adesso le ballerine sono queste adesso l'altro tipo di cui abbiamo già parlato la primavera scorsa perché è un continuativo rispetto alla primavera scorsa sono le Mary Jane le Mary Jane che sono quelle con i laccettini sulla parte alta del piede in questo caso o uno o due o uno o due in questo caso sono due con di calliope con lucido che vi dicevamo va di moda c'è vernice proprio vernice verde lucida e platform quindi questo è molto di moda dicevamo da quando se le è messe angine da mango un po' tutti hanno capito che sono di moda sì questo è un modello sì con la punta quadrata tacco largo se le vogliamo col tacco col tacco largo assolutamente poi ne abbiamo ho preso un altro tipo quelle di cider ecco questi sono con l'accetto ecco questo è un è un mix secondo me ideale per chi ama quelle platforme non ha non non ha ancora del tutto digerito il ritorno delle ballerine perché per qualche verso la Mary Jane ricorda sì la ballerina però sempre quel tocco di tacchettino qualcosa che è un pochino più slanciata è un mix sì ci dirigiamo verso altro modello anche se c'è da dire che la punta quadrata è proprio l'antitesi dello slanciare la gamba e questo proprio ti intozzisce devi avere le gambe magre per metterti le Mary Jane secondo me e questa è una moda a meno che non te le metti coi pantaloni sì bisogna stare bene con se stessi e non è una moda che ti obbliga certo certo sì sì bisogna essere sicuro a seguire i canoni sì 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 esattamente bisogna apprezzarle e avere piacere ne mettersi una cosa che magari non sta benissimo va bene adesso vediamo le mule e i sabò che sono quelle con il tallone di fuori sì partiamo da quelle basse in modo che così capiamo il modello che è appunto il sabò basso quindi per esempio queste viola i penny loeffers eccolo qua un pochettino di tacco c'è un pochettino di tacco c'è adesso queste vanno di moda anche addirittura con i pinocchietto che sono tornati sì che quando esatto faremo la puntata sui pantaloni certo vi faremo rivedere il il famoso modello pinocchietto quindi non soltanto con magari una gonna con un jeans largo che copre ovviamente in quel caso il tallone sarebbe un po' una sorpresa in questo caso esatto tanto per sognare c'è anche la mule di prada queste sono state nella sfilata l'abbiamo vista nella sfilata allora questo è un tacco ovviamente ha fatto a cono in raso o appunto lucide diciamo che questo modello ci aiuta perché i grandi marchi in questo caso ci fanno capire che cosa va di moda sì certo poi dopo esatto ad esempio noi le guardiamo da prada ci piacciono e poi andiamo da zara che è un pochino più accessibile giusto che sono ecco no queste però sono molto diverse queste sono diverse però ci sono anche da zara le ho già viste allungate come quelle di prada sì e questo è un altro modello anni 2000 perché io mi ricordo la retina trasparente così stai stando ritornando terribile veramente terribile ti ricordi quelle che erano tipo retine con i fiorelli sì 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 prima o poi tornano anche quelle sì perché la moda è abbiamo capito che alla fine è un andare e tornare no di tutto quelle lì io non ce le ho più te lo dico no 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 dentro l'armadio non ci sono forse non le ho mai avute io comunque dicevi una cosa giusta cioè i grandi marchi ci servono per vedere le tendenze poi è chiaro che quelle di prada che abbiamo visto sono molto belle però bisogna insomma costano anche una fucilata però abbiamo capito che devono essere così con un finino di tacco con la forma allungata e quadrata e quadrati con quadrato non soltanto la punta ma anche lo scollo esatto anche lo scollo deve essere quadrata brava sei un'ottima osservatrice dopo la pubblicità vediamo invece i sabò quelli col tacco eh sì ma tra poco allora rieccoci sempre dentro la nostra scarpiera sì vediamo i sabò col tacco di moda in questa primavera 2024 allora visto che a breve sarà il mio compleanno sì questo è il mio sogno ah questi sono i sabò di Bottega Veneta che mi piacciono come le borse hanno questa lavorazione qua queste nere c'è scritto Stefania Cattaneo sì hai ragione comunque sono belle devo essere un po' comode sembrano comode perché quel morbido lì che ti avvolge il piede sì anche sull'alluce valgo che alcuni ce l'hanno valgo appunto diciamo molto comode molto belle molto eleganti secondo me sono anche abbastanza sexy queste sì 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 sia nel colore precedente sia questo se invece volete spendere bene potete andare da Mango andrò lì alla fine però sono molto diverse sì non mi piacciono queste molto però devo dire che il sabò con la punta così tutta chiusa è perfetto e poi è perfetto adesso so che non è molto carino da dire però magari insomma c'è gente che il 3 aprile non è che fa la pedicure tutto l'anno che ha tutte le dita già con il gel semi permanente fantastico quelle sono comode almeno il piede è un po' libero quindi non hai caldo non hai caldo però se hai le unghie brutte non le vede nessuno diciamo che per ora le dita fuori non le ho ancora viste no no infatti però quelle di Bottega Veneta esatto che abbiamo visto prima c'è un altro sabò di Mango lo vediamo ecco anche questo è il tuo sì però i talloni vogliamo parlare dei talloni? ah i talloni lì sono sempre perfetti ecco mi raccomando seguite Adriana no no è vero perché se no i sabò no io i sabò io la mia estetista che mi fa i complimenti ogni volta mi dice tu complimenti per i tuoi talloni eh eh allora i talloni veramente questa su questo non sono gentile sì i talloni devono essere a posto con i sabò sempre se no non mettiamo i sabò sì assolutamente no no se avete quei talloni brutti tutti duri con la pellaccia per favore copriteveli perché è un insulto al piede non è stata gentile neanche me no ma io non lo sono no però può capitare soprattutto nei mesi estivi no con la sabbia e tutto però non metti i sabò non metti i sabò no perché le dita devono essere tirate fuori se sono curate le dita dei piedi idem i talloni i piedi vanno curati magari tra un po' l'influencer ci spiegherà che oltre ai peli stanno bene anche i talloni ognuno deve star bene con se stesso ma ah sì è vero è vero non siamo politicamente corretti e vabbè io invece lo dico a me i talloni brutti non piacciono eh ragazze io sono sincera sono un po' all'antica andiamo avanti le slingbacker ecco le slingbacker anche queste queste sono bellissime queste sono bellissime di vernice sono di armani eh beh capito perché va bene però allora queste hanno sia un po' questo bavero bavaglio no come si chiama della parte davanti sì che comunque è una cosa riconoscibile che cioè ci spiega uno dei modelli di moda di questa stagione e la slingback è classica quindi che si lega dietro sul tallone quindi con questo cinturino dietro e poi appunta anche qui un po' va di moda un po' il bon tono sì è vero è vero perché questo è un po' da collegiale vediamo quelle di Lujo sempre slingback ecco queste sono più normali sì queste sono medio medio budget rispetto a armani alto budget sì Lujo medio e poi abbiamo un altro ancora alto alto però queste come modello è molto facile è un tacco comodo secondo me qualcuno se ne ha anche già abbastanza simile sì sì il proprio armadio di queste bianco bello perché questo è un modello che è sempre stato un po' di moda no sì è una decoltè col tallone di fuori io uso categorie più semplici l'ultima che è quella di Miu Miu ecco bellissima questa è molto bella e in più ha non solo i brillantini che è ok ma anche il richiamo della parte trasparente che è sempre molto di moda esatto quindi si conferma sì che c'è un po' di PVC perché poi avremo la categoria proprio delle PVC adesso un altro tipo di scarpa che va molto in questa primavera è quella cosiddetta bow col fiocco col fiocco esatto allora visto che il fiocco ve lo dicevamo a inizio ancora quando vedevano le sfilate nei capelli negli accessori c'è anche nelle scarpe partiamo con una zeppa questo qua sono su Amazon sono Amazon Basic quindi sono alla portata di tutte sì e questo è uno con un super fiocchettone secondo anche qui alla portata Asos anche questa è la portata bellissime queste queste hanno tutto il cinturino anche qui con dei richiami dorati secondo me questi stanno benissimo anche nell'estate con la bronzatura sì e con i piedi curati sì assolutamente qua c'è sia il tallone che le dita di fuori quindi anche se c'è il fiocco ragazze curatevi i vostri piedi e poi le Ferrandal queste sono costose queste però sono molto belle a me piacciono anche aperte così e questo è un sabù praticamente senza la parte sling back sì rimangono molto delicate però secondo me sono di uno scomodo queste sono le peggiori vero ti scappano poi non stanno su questo ti scappa il piede continuamente ti fa male queste sono da mettere per farsi vedere e non camminare sono quelle che ti metti alle cerimonie poi te le togli dopo sì 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 o ti fai lasciare con la macchina davanti ti siedi e non ti alzi più le ultime di Tom Ford queste sono un gioiello questo è un gioiello però anche queste altissime secondo me sono tra i modelli più sensuali di questa stagione sì perché hanno sempre questo tacchettino un po' di vellutino che è l'ideale più che in primavera più che in estate in primavera sì quindi adesso adesso queste sono da prendere adesso e sono quelle che a te non piacciono però che si usano anche con i collant sì e che si torneranno ad usare anche in autunno perché ormai con l'ant basta eh sì ormai con l'ant basta è vero è vero eliminarli eliminarli va bene adesso andiamo a vedere i sandali gioiello i sandali gioiello quindi con qualche pietruzza qualche eh sì il gioiello è inteso come qualche strass strass allora abbiamo queste in fradito che si legano dietro quindi queste sono tutte di gardini sì con in questo caso dorate queste sono belle perché magari ci esci il pomeriggio e poi ci rimani anche la sera sono quelle comode anche in vacanza che se ti porti un modello di queste viene male sono d'accordo queste ci vogliono nella nostra valigia nel nostro armadio dell'estate perché puoi camminare ma sono anche carine e quindi sono sono perfette un gioiello di Luigio c'è anche questo invece è un po' meno comodo questo è un po' meno comodo però devo dire che sono tra i modelli più più carini che ha fatto secondo me Luigio sono molto belle perché hanno queste parti che richiamano un po' le lavorazioni un po' di trasparenza sì quindi molto fresche e un po' il tacco che richiama il gioiello anche nel tacco il tacco scultura è vero è un tacco scultura brava quindi d'oro tacco scultura anche questo diciamo che è un target medio alto se vogliamo andare proprio in un target bassissimo c'è Shane sì che però ha dei modellini molto carini anche qui il tacco trasparente il PVC io vedo quel mignolino lì su Shane e sto male perché? no perché secondo me fa malissimo e tutto quando toglie la scarpa tu dici che sei viziato sono quelli che poi devi correre a comprare i cerottini ma poi sapete che dovremmo fare una puntata su tutta quella attrezzatura che è da mettere tra le dita per non avere male ai piedi quella secondo me la dovremmo fare anche quello il feltrinetto sì ci c'è un mondo per proteggere i nostri piedi dalle scarpe scomode che io conosco a malapena quindi potremmo condividerlo con le nostre amiche adesso visto che abbiamo buttato lì un po' di PVC andiamo a vedere meglio il trasparente ecco il trasparente questo mi raccomando questo è l'anno delle tue scarpe sì perché io è da anni che uso le scarpe da due anni che uso le scarpe trasparenti e adesso è la mia è il mio momento adesso l'hanno capito tutti tutti ti seguiamo allora o ci sono col tacco che poi finisce con il triangolo queste sono diamine maudì questi sono meravigliosi sono molto belle con tutta la parte davanti di trasso questa è bella anche perché veramente allungano tantissimo il piede perché tu praticamente è come se quasi non avessi la parte davanti che qua è il concetto della scarpa nude noi abbiamo sempre detto se vogliamo allungare la gamba usiamo la scarpa nude sembra la scarpa di cenerentola di cristallo sì è vero cenerentola moderna mi raccomando qui vale stasera ci sono cattiva no vale lo stesso principio delle spalline trasparenti se ingialliscono no 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 infatti comprate un buon marchio o se comprate quelle che costano poco come faccio io una stagione poi si cambiano no veramente perché le ho sempre viste tutte belle pulite sì 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 devono essere pulite perché quando si ingialliscono oppure diventano opache via via quelle diventano tremende Giacinto Rossi un altro pvc oppure le potete prendere di un trasparente colorato in questo caso allora va benissimo qui le unghie si vedono perché si vedono però sono molto belle queste mi piacciono tantissimo perché non è solo verde non è verde fluo ma è verde fluo metallizzato che è non plus ultra della moda sì questo è non plus ultra della moda anche queste le abbiamo viste in passerella poi c'è un pvc di Melissa questo qua no però l'ho voluto mettere perché hai fatto bene perché in realtà questa sta per spodestare comunque è vicina alle crocs nei modelli orribili ma di moda nei modelli orribili ma di moda no io sono guarda beh anche le Birkestock sono orribili ma di moda sì ma io finanzio tutti e tre questi marchi ma sono consapevole della bruttetta che però è quel brutto che piace questo è un brutto che ti taglia la gamba te la accorcia te la fa diventare grossa poi fanno caldo al piede perché è plastica veramente un orrore ti fanno anche un po' male fanno anche un po' male ma le comprerò però no io quelle no tu le compri io le compro va bene e questa è un'idea va bene vado veloce scusate se no non ce la facciamo farle tutte perché abbiamo noi abbiamo un altro pvc è ovvio che queste piacciono di più però a parte il brand Steve Madden che appunto è super super chic bello non così esagerato però questa è una scomodità assoluta anche queste però sono molto belle però sono elegantissime anche queste qua quindi non solo oro ma anche argento resiste assolutamente va bene zeppa e plateau partiamo da Zara ecco questo è per chi magari vuole quelle in pvc tipo quelle che dicevamo del mare ma non vuole rinunciare a un po' di altezza a un po' di sensualità queste sono altissime però essendoci un bel plateau non lo senti no e le usa con i leggings sì anche con la gonna queste stanno bene molto questi sono molto belli sono molto eleganti secondo me slanciano la gamba e sono comode perché il tacco è alto ma c'è una zeppa enorme occhio alla caviglia sì è vero perché se cadete da quelli è la fine quello era il plateau poi c'è la vera zeppa come questa di Gucci ecco la vera zeppa anche qui stile un po' spadriglias quasi ovviamente in questo caso chic queste vanno bene perché le possiamo portare al mare anche la sera piuttosto che da vacanza o anche da città la vedo un po' più la vedo molto estiva sì questa assolutamente la corda è proprio estiva c'è anche la zeppa di Temu se non vogliamo spendere soldi però anche questa dignitosissima è molto carina con il lacetto molto carina questa con doro se non sapessi che è di Temu penserei ma che bella è vero è molto bella anche a me piace molto bella l'ultima zeppa di Hug ecco anche questa è un mix di comodità e comunque anche un minimo di sensualità rispetto ai modellini proprio a terra certo certo e anche questo è un brand a metano cioè non è Gucci ma non è neanche Temu va bene prima di chiudere le sneakers sì perché va di moda la camicia bianca dicevamo ma anche le sneakers bianche quindi il bianco in cose anche basilari per esempio le sneakers queste hoca le hoca che sono per chi ama correre e camminare le consiglio perché forse non sono tanto famose per chi non è addetto al mondo sportivo ma sono comodissime leggerissime sembra di avere niente ai piedi e poi sono anche carine quindi anche bianche magari pensateci per il colore estivo esatto perché è un colore di moda poi ci sono il classico di adidas sì tipo Sam Smith piuttosto che anche queste però non possono mancare non guarda roba questo è un esempio di adidas perché adidas le conosciamo tutti ecco c'è da dire che queste però sono quelle di pelle sono un po' calde sì sono un po' calde cioè le oca di prime sono più traspiranti quelle si puliscono di pelle con latte detergente vi ricordate sì le altre in lavatrice però io sinceramente preferisco le oca perché respiro di più sì queste sono tipiche di Valentino con gli strass le abbiamo già viste le hanno rifate anche ma altre brand come Hush piuttosto che un po' più accessibili quindi con tutte le borchettine però ci stanno ancora sì le abbiamo viste sulla passarella anche questa sono un tipico must di Valentino avere appunto il luccichio e l'ultima visto che abbiamo anche questa le abbiamo viste in passarella sono quelle di Gucci quelle di Gucci richiamata ovviamente dalla calza che non la cosa che mi è piaciuta è la banda la banda rosso verde poi è la sua però ci fa vedere come anche abbinare eventualmente una scarpa al sneakers sono orrende te piacciono così ma allora l'abbinata con una gonnellina scottese arrivata a metà con i calzettoni così è molto moda cioè proprio di quelli che seguono la moda ma in maniera esagerata esagerata proprio da tendenze da Betty ai lavori alla fashion week brava neanche da una che lo guarda da una proprio che ci lavora dentro perché la copiata però noi prendiamo dalle passarelle non è che ce ne inventiamo però diciamo che se una ama le gonne scozzesi e magari non ha voglia di abbinarle a uno stile elegante può anche farlo con la scarpola la tendis e il calzettino va bene direi che abbiamo finito la prossima volta ci occupiamo dei pantaloni e poi sarà la volta delle gonne e ne abbiamo da vedere alla prossima ciao